Una manifestazione importante perché è nata recentemente, siamo alla seconda edizione, ma Renzo Zucchini, sindaco di Pelago, ha supportato fin dall'inizio questa esperienza che porta a far tappa nella Val di Sieve del Vintage, questa esperienza della Bici che si propone non come mezzo di competizione, ma come mezzo di immersione nei nostri paesaggi, nei nostri ambienti rurali, alto medievali, con le caratteristiche della conoscenza di un territorio ricchissimo e di incredibile bellezza. Del resto la Toscana è la terra dell'eroica che ha aperto in qualche modo da anni questa strada con partecipazioni che, ricordo l'anno scorso, sono state di 6.000 persone che con la bicicletta hanno vissuto un loro Chianti. In questo caso siamo nella Val di Sieve, a Pelago, dove abbiamo da poco ricordato la divisione fra i comuni di Pelago e di Rufina, avvenuta circa 100 anni fa, ma che rappresenta da sempre il punto di riferimento della Toscana dal medioevo forse più mantenuto nei nostri paesaggi e negli ambienti rurali che propone. Arrivarci con le strade bianche, con le strade non asfaltate, attraverso una bicicletta che ci riporta alla fase pionieristica dell'uso del mezzo a due ruote, è bellissimo e consente delle sensazioni e delle emozioni che sposano cultura, bellezza del paesaggio, immersione nella socialità della vita rurale e capacità di godersi dei luoghi unici al mondo.